Il Comitato Braga torna ad accendere i riflettori sulla questione finanziata dell'Istituto Musicale Terramano e lo fa chiedendo in primis alla parte interessata di mantenere le promesse fatte tempo fa. Dobbiamo ancora tornare in campo come si usa dire adesso come Comitato perché alla luce anche del recente bilancio approvato dal Comune in breve c'è una situazione che molti ricorderanno di vecchie pendenze del pareggiato che gli enti territoriali devono concludere di mettere a posto. È passato un anno da quella che è stata l'intesa tra la Regione, i Comuni e la provincia. È una situazione un po' delicata perché ovviamente il Braga non è che ha problemi di gestione finanziaria. La gestione finanziaria è in salute. Il problema nasce dal fatto che i fondi statali non possono essere utilizzati per sanare queste situazioni. Spetta a questi enti e noi siamo sempre a fianco anche del nuovo Presidente per qualsiasi tipo di iniziativa. Quindi credo sia giunto anche il momento, visto che si avvicinano anche le vacanze, di battere un colpo, farsi sentire perché è una cosa troppo importante per la città, credo, e per il territorio la salute di questo istituto. Oltre alla questione finanziaria dell'ente c'è anche la situazione di stallo della sede storica di Piazza Verdi, nonostante 5 milioni di euro messi a disposizione dall'ex sottosegretario De Micheli. La vecchia sede è un altro argomento che ci sta molto a cuore e anche questo è in un impasse. Sappiamo che è stato nominato dal Comune il RUP che era il primo passo per poi procedere. Ricordo a tutti che ci sono oltre 5 milioni di euro destinati al Braga che abbiamo potuto riscontrare nell'incontro che ci fu a Roma quando il Braga ha tenuto il concerto presso la Sala della Regina nella Camera dei Deputati. I fondi ci sono qui, è una questione di enti locali, quindi di capacità degli enti locali di fare progetti, di mandare avanti il pezzo di carta e lavorare. Quindi anche su questo chiediamo un po' di luce e un po' di chiarezza anche perché credo sia anche qui interesse generale rimettere a posto, in piedi, un edificio nel pieno centro della città.